Ecco lì tu Ecco lì 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 Chuf 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 chufru Chiuf chuf 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 chufu si de guil ibro tu Sì, sì, sì. Ah, se me pudiera tepear a Teregon Te quiero ir justo a donde esta el ¿Están todas las peluquerías o no? Si, quiero ir Está salto Out of range Out of range Out of range Ah, este está de más Pero que mosca de mierda Out of range 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 E' un' artefacto del mismo Contortanque Non so perché, però esa aguja di guerra è molto più che la del marco O faria un tanque solo per esas armas Stai zarpato Stai molto buono Voy a corretear al mago Siamo arrivati E' un'occhiazza Oración Siamo arrivati Un'occhiazza 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 Prendi Un'occhiazza Sì Deberi essere 5 Asi come? In fila Te sto seguendo Hace 10 minuti Ah Sì Hola Al fin Hilar Non sono molto che stanno Io come ayer veni in seguida e non vi a nessuno Sì, che stai, voglio morare un po' più Sì Sì Io sto qui tranquillo, acosando un mago Sì 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 Sì, siamo tutti insieme Ci siamo tutti transfigurati, tutti bellissimi, tutti preziosi Ci siamo tutti insieme a la peluqueria Io mi cambiò il colore del pello di volta e volviò rollo Volviò rollo? Non ti piace il ruido? No Cambiò il blanco anche in una e non mi piace Donde siamo insieme per la foto? Ehm... non so Dentro c'è un calabozzo o qualcosa Ah, bene Ok, allora... Stai? Sì mando Hai che andare a vendere queste due, vero? Le quest? Sì No mi deixa... No mi deixa mandare come party Perché non sei il leader Tiri... Voi? Tiare mi leader Sta doleando questo figlio No... No... E sta nel valle della Fossi Hola Evers No, dejate, però tu devi tirare il leader della parte Il pollo Ahi, mandai, vamo a entregar la quest No, hai che matare un boss e già sta No, non, è successo C'estoccata Ma, l'onfette Una personata Passa Una persona qui Qui È Qua 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 Quil Ora sì Il pollo Sì 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 Hay que matar Sì 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 Fijate si podes mandar a la otra Sì 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 Questa è buona, molto piccola Selfie! Siamo tirando la foto Siamo tirando la selfie Chi lo scassa? Saccala, saccala Siamo occupati al lado tuo, comodense ahi Ponganze, due a la mia esquerda e due a la mia direta Ok Un poco più a tra, come un po' Vieni a la camera Tu stai tapando a Marina Sì? 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 La cara del loco! Sì? 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 Come s'entera Sì? Nos flexible la orca sta tipo uff que movimentos y el otro peleando saque varias fotos en la carpeta ahhh que placer poder mover la camara y que no se me tranque es lo que es tener un click derecho decente es fantástico el Vajira ahi dando pelu madame el mago es bastante antes la de Swiftie antes la de Swiftie el naga como Swiftie ahora Vajira tiene ahora Swiftie tiene un decae y bueno vamos para Vajira jaja no aparte Swiftie no como no esta el calor de la mierda igual el loco me sigue cayendo bien que este suscripto el loco gritarlo cosa que yo le digo hace años 4 años el loco se expoen a 600.000 suscriptores y no salio de ahi y a muchos youtubers le pasa eso cuantos 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 suscriptores chan ah ni en pedo boludo ni en pedo ni en pedo ni en pedo le pasa que el loco ese en burning crusade estaba muy zarpado y después estaba no en burning crusade el loco había creado una entrada en el foro y le dijo bueno a todos los mejores que tienen bien lo que les gana E' un po' di più Buon De buon E così fu come si toccò, vabbè Bisogna c'è Bajira, c'è Garchoy e... Lo empezaron a caer 21, sì lo rescaté questo lo cargò? il master del resto llama è molto buono è un buon master da questo ti ricordi qual è? quanto meno vida tiene lo che cura, più cura questo suena bene è molto buono che più ha il arcano? qui non c'è qualcosa? ah, c'è il foglio il foglio è molto buono aumenta la regenerazione del manà e il manà massimo e le cargazioni vicino aumentano il daño di 4.50 non c'è il foglio non c'è il foglio non c'è il foglio non c'è il foglio è molto buono non c'è il foglio funziona bene il nordpenn contro un boss che è 5 nivelli più che voi la verità è sì ci sono una planta qui bravo però ho bisogno di scettare le un pote perché ho bisogno di scettare le gioie che lo feroce questo è il Messy No, 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 no. Posso configurarlo nel video per che gli abbia un posto che accade, non? A me vedo se lo va a guardar fuori. così mi passo a FK il tempo giusto ok è lungo questo rade è molto dura e però... un po' di più che... guarda è stato cercato una raggede No? Eh? Non puoi... Non puoi... Non puoi... Ahi? Eh? Non puoi entregarlo da qua? Hola Trivul! Ah, però supongo che la vas a poter entregar ora Si, però non so se si te da otra No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Osea, me arrequea la de matar al XS y ya esta El dragón ese nos va siguiendo ahora, boludo Al final la va a perder el juego Vos, el... El cambio de targeting ya lo implementan en el 7.2? La mejora? Si No No, no Porque World of Draen lo viene funcionando horrible No 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 la interrupzione che ha tu interrupzione sta fuori del cooldown la patata osea si la patata cuenta como global Sì, non abbiamo un fulano di più global No, ma se vio c'è un fulano di più Se viene c'è un fulano... Sì, come se fulano, se fulano, se potremmo con un fulano Ehm, non è un fulano di più Se è un fulano di più Se lo fulano di più Cosa c'è il fulano di più e con un fulano? Sì, è un fulano di più non è un problema ora stava pensando di se si i interrumpi non sono per la scuola non lo sape quanto, non me puse a fai perché ora io castellano qualcosa e poi castellano il interrumpio e mentre venia a fare interrumpio tutto fuori, sta bene no, i interrumpi sono con il paladino che non è poco questo sta bene sta bene non è non è non è non è non è tu o questa sta bene te c MV posso Grazie a tutti. 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 Vabbè mi ha fatto una botta di attelità sarebbe buono per riuscita un po' di più Ma no no no, vabbè si vengalo s'ilio può insegurar Denle botta Joaquim sta tirando alguna moneta ahi, non es chance è guarderlo è pega ma è linda e lo voglio accionare così a ver, di più lindo, a ver, a ver si, si, a ver ma sei precioso no però chi ha la lingua afuera? vos no, chiaramente vos si, vos vas a un baile y ves un build no, no vas a salir con un build porque vas a ganar que es gay pero si ves un build que tiene la lingua afuera las instrucciones son claras dios no precisamos nada vos lo ves y... este loco entiende lo que hay que hacer que me hizo no, no pero yo puedo poner fuego a cualquiera literal si, literal no 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 seguimos, seguimos seguimos siempre hay un build desubicado ah 45 ah 45 tenemos un nuevo también si ah 45 están de men no 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 das copia no? el reflejo exacto yo que te vas a sacar a 45 cojo el árbol atrás cojo el árbol atrás pulido el mato del nado huy peón no? yo de 45 tengo los reflejos si coloco una runa de poder en el suelo durante 10 segundos tengo que hacer tengo la runa tengo la runa te pones la runa más el cooldown que tenes más la habilidad del artefacto de arma después y tipo puff puff me dicen me dicen manco a mi y ninguno de ustedes 4 habló con el árbol boludo y eso no es solo cuando hay que hacer quest no si no como abre no abre la puerta abre la puerta abre la puerta nada puliamos este pica no te pica no que yo estaba a la cabeza por eso te voy a ayudar si el único que hace solo si tu radio es asqueroso abre pobrecito él no entiende que soy un rompetelo no, pobrecito te voy a humillar tanto jajajajaja es una buena pelea Rogue Mage es una pelea muy arcaica es La pelea clasica Rogue Mage è la pelea clasica del VVP Ora, non se che tan bene si manejarà un Arcano Contra un Rogue di mano Si non ho visto molti Arcano Tiene mucho daño Que felicidad Hay mucho fuego No, forza No, no, no No, no, no 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 No Del sábado al domingo podemos jugar cantidad No 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 buona felicità questo bicho si è è è è è è è il è è è è per qui ci 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 Guarda quando usero il legge legge il paio da lets me ponderò meno di 30 ore Ma questa cosa è lo del meno Sono in questione e io ho chiuso Pora qua 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 qua? C'è il què? Suppostamente tomando agua si va se va è un po' di più è un po' di più ha fatto molto sentire e questo acqua che ti fa manà ti mando a questo no sapeva osea leì questo e non lo provo si aprendi a lo nuovo tutti i giorni o se non ti prendi un avion frio come dice per ahi no 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 è qui 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 no 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 tengo non non ho ho no no che no non 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 anche ma un paladine un paladine una laguilla guarda scab 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 no, si me metto no, no aguanta nada esta orca, oh con jugar no se puede ah, c'è quest si, si questa quest non la ho capito io tampoco la trampa è stata? la del gogolino è stato ah no la trampa è la trampa è la trampa è la trampa è la trampa oh varnish che cosa faccio 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 ha che cosa faccio no io mi tiro in orvain Ahi Tu aveva tirato Riftag e l'ai detto che stava sufficiente, no? No lo fuè Si parà, che voglio che mi banni Ahi sta Si parà Si parà che un healer può interrumpire è molto buono In una linea io mi imagino che c'è un cancer E' un cancer E' un cancer A distancia Inclusive sta fuori del globo Podés curar a alguien Dos veces Y tracés un macro Interrumpir Oh, il s'haino tutti gli gordi Eeeh, muero eh? Eeeh Todos los gordis Eeeh 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 Quedese attraco e lo voy a traer bien adentro è stato un po' di più e i i i i i i i i i Wow hadà fredd si no Pah, lo che me pego, che era infermeale, bichueta. Ignora il paine, ignora il paine, il dolore psicologico. Oh, what the fuck? Los mismos oros nos mataron, boludo. Los mataron, boludo. Vos, pero... De donde salieron esos dos bichos? Vienen solos. Los invoca, los invoca el bicho este. Que puto. Release. A patear, porque no tengo información. Ah, ok. Pateo. Si, a mi me pegó uno y quedé en coma, ya. Es que a mi me pegó uno y quedé en coma, ya. No morirle. ¿La batica? Ah, nos mataron dos. Otero que es. Wax. 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 Te espero Sì Giorno Ese è il tipo Ci sono 44 o 45, sono 47 Grazie, grazie Dale! Stiglio le staglie Stiglio le staglie Mòtenlo Ora, ora, in rala Oggi 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 C'è un po' 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 trago la de la derecha ii 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 i 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